In questo video giocheremo ad Among Us dopo tantissimo tempo. Questo personaggio rosso qua, Odino, si chiama, che è il nome del mio cane, mia sorella. E ora sono entrato prima e giocheremo, faremo due o tre partite semplici. Io sono pistrelo, ora scriviamo start, 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 ok è startato, speriamo di stare impostori, ci sono due impostori, intanto sarò crewmate, ok. Ora guardiamo le tasche, ora qua c'è una tasca che è lunga, però mia sorella è in un'altra camera, almeno non variamo, io non sono impostore, non neanche, ma mamma mia mi ha fatto vedere, però hanno trovato un cadavere ora. Allora, allora, hanno ucciso quello lì che scriveva start, where, è stato covid, no ho votato per voglio, no che, ma mi, ma, mi dissocia. Un po' raggio, è white, 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 kill my friend, ha ucciso il mio amico white, ah, white è nel vuoto siderale. Vediamo se è lui, vediamo se è lui, se non è lui, non era lui, ecco io sono morto, ora fanno l'emergency meeting, fanno l'emergency meeting e mi fa buttare a me, però io, no è il giallo, mi ha ucciso. Allora, e, no, viene perso, mi dissocio, vabbè. Racky schiaccio play again, non in exit, non exit, perché quello lì avrà la pubblicità, non lo so. Aspetta due minuti, ok, vetti. Ah, no, io lo start, che bello, però siamo in due. Ma perché c'è sempre te lo start? Ah, perché, perché non lo so, che il mio sorello è venuto in camera mia. E ora possiamo, penso che sono, stavo per convincere a mio papà a comprarmi questo film, solo che poi non ne ho voluto. Aspettate. Ok, siamo entrati in un'altra, in un'altra stanza, dove è qua. C'è una Charlie D, Charlie D'Amelio, Cicamala, una Sofia, una italiana, io scrivo ciao. Ciao, Sofia. No, ha startato, ha startato. Ha startato. No, no, no. Niente, non siamo impostori. Oh, mi si è buggato. Ora, con questo. Ok. Ok, io mi faccio una task. Anch'io. Ok, ora andiamo in admin, che c'è sempre. Quando ne faccio una c'è l'upload. Ok. Ok, ok. No. No, dai. Che sfiga. E Sofia. No, no, io non la cancella. Chi voti? Sofia che ha votato. Ned Navigation. Meme. Meme. L'ha affittato. Quindi è uscito. Sara. No. No. No, ne ha due italiane. Tre. Vabbè, siamo in quattro allora. E poi uno è sette. E allora io chi voto? Chi voterei? Guarda. Secondo me Sofia. Io voterei. Io mando un'accusa a caso. Anch'io. Brown. Chi che hai votato? Uno. Brown. No, brown. Te anche te hai votato uno. Sì. Where's anyone? Think black. Dark black. No, sono io. Ah, ok. Sono proprio rosso. Ok. Questa qua mi ha rubato la scheda. In there. Proof. Proof. Bluff. No. Ok. Eh. No perché proof. Like. Sara. Leftato. Bene. Vediamo che lefta anche. Carly. I. LOL. Not black. LOL. LOL. Mi distorcio. Ancora vento. 25 secondi di bene. Uh. No. Raki. Hanno schippato tutti. Sospettissimi. Sì. Hanno schippato. Lo capivo. Lo sapevo che dovevo schippare. Ah. Un impostore rimanente. Allora vedi che era uno. Era Sara. Ci scommetti. Ci scommetti. Ci scommetti. Ecco. Quando scappano così. Vuol dire. Ah no. Non c'è stata una killa. Pensevo ci fosse stata una killa. Una killa. Ora andiamo in security. C'è una pasta. C'è una pasta force. Questa semplice. Poi c'è il flying dark. Guarda io salgo di qua. Perché. Sicuramente. Tempo da sprecare. Ecco hanno trovato il corpo. Hanno trovato. Il corpo. Chi sarà l'impostore. Secondo me il postore. Il secondo postore è quello giallo. No è brown. Brown. Eccolo uno. E' uno. Scuro. Outro. Vota il marrone. Il marrone. Pistilo e Rachele. L'ha avvitato. E allora. Sto qua sicura a me. E' tingri. L'ha avvitato. E' ticura. No no no. Ho schippato. Allora. Io non lo so. Ma perché sto qua dice. Eh non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Vota. 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 Ok. Dai. Ah ok. Ha perso. Ah no. Il marrone mi ha votato a me. Però ha perso lui. L'ha inventato tutti. Se non è lui. Sono io. Un impostore. E' il giallo. E' il giallo. E' il giallo. Te l'avevo detto. E' il giallo. E' il giallo. Terribilmente. Non puoi far ste accuse. Non puoi far ste accuse. Ma io te l'avevo detto che era il marrone. Eh lo so però. Vota. Ti ho visto che il strano. Ok. E' di te perché stavo già andando a fare l'emergenza. Ah no. Ma chi è che è stato a fare l'emergenza? The Capitan. The Capitan. E' infatti è stato The Capitan. Yellow. Yellow. Brown solo di più. Io l'ho votato yellow. È il giallo. Sì 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 sì. Ma anche io l'ho votato. Eh tanto. Hai votato chi? Lui. Quello giallo. Quelle corde. Sorry da Brown. Brown this is like too. Eh per me è sospettino. Sorry. Allora. Ok. Meno male che sono in squadra con mia sorella. Qua la partita sarà infinita. Perché io sono in squadra con mia sorella. Sono in quattro. E chi mi vota? Mi killi. E io ti faccio le tasse. Poi non mi è andato neanche il tempo di fare una tasca. Adesso voglio vedere chi era quello. Io ho finito le tasche. Ora voglio vedere chi è stato. No io voglio venire le tasche. Il prezzo di un oranco allora finisci là. Lui non è. Lui non è. Quale? Quello giallo. Tutto giallo. È apposta. Ma mi dissocio. Ma mi dissocio io. Che lo so ora? Eh lo so. Lo sapete. Che ha fatto di Dio. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fake, fake, fake. Sorry. Il bello diamo. Brown. Brown. ma perché uno c'è il cappello da bavo natale conosce un po sarebbero si mette un private slime ragazzi prima di iniziare una nuova partita vi saluto ciao